Buonasera Ministro Di Maio Prima di tutto Sì, buonasera Prima di tutto Non saluti solo me ma saluti pure tutto il governo e tutto il movimento Perché prima di tutto il movimento Ma prima di tutto il governo Sono compatti Governo e movimento Movimento, governo, sono tutto uno Prima di tutto uno Vabbè Comunque, senta, lei parla appunto di compattezza Invece nei 5 Stelle ci sono dei dissidenti Allora, prima di tutto Io a questa domanda rispondo non solo a nome mio Ma a nome di tutto il movimento che è compatto E che deve stare unito come una tartaruga Una tartaruga? Una tartaruga? Non so, ha detto Che tartaruga? Non so, lei ha detto una tartaruga A differenza degli altri partiti Io non ho mai detto tartaruga in vita mia Se lei dovesse trovare Mi faccio finire, dottor Pest Se lei dovesse trovare sul contratto di governo E o Su qualsiasi altro documento E o La parola tartaruga A firma di Maio Io vado in procura a denunciare la tartaruga Ma l'ha detto lei adesso Io Allora, prima di tutto Lei ha detto tartaruga Io Poi per carità Vada pure a denunciare Ma ha detto tartaruga Non rida Prima di tutto Io ho detto Io prima di tutto ho detto Cosa fa? Non guardi il cellulare però Cronologia indietro Cronologia indietro Ma che cronologia indietro? Destuggine Ma È andata a recuperare Ovvero formazione Romana di fanteria Sta guardando Che è di grande complessità Voci correlate Scarica in pdf Ma no, ma vedi Ma leggere tutto su wikipedia Per favore Allora, prima di tutto No, prima di tutto basta Prima di tutto Di fronte a accuse di questo genere Ma l'abbiamo vista Fatte non solo il governo Ma a tutto un movimento Sì Che sono compatti Che sono compatti Va bene A noi un movimento compatti Viene voglia di andare avanti Ecco Con essi indistruttibili Come il cemento Come il cemento Ah, il cemento adesso Cioè materiale Da costruzione Paticamente forte La prego Che unito ad aggregati Di diverse dimensioni Aperta parentesi Sabbia, ghiaietto e ghiaia Chiusa parentesi Si ottiene Il calcio estruzzo Che ci tengo a precisare Sì Non sarà condonato Mai in nessun mondo Non legga Wikipedia Al massimo si darà Una specie Una pace cementizia Sì Perché oggi Il cemento Sarà sì Armato Ma per legittima difesa Senta però Lei non può leggere Su Wikipedia Perché poi tanto Si viene a sapere No? E le fa brutte figure Allora Prima di tutto A differenza Delle altre brutte figure Noi abbiamo 5 stelle Non ci facciamo dettare Le brutte figure da Bruxelles Ma cosa stai dicendo? Le brutte figure Le facciamo da soli Uniti, compatti Compatti Quello sì è vero Un movimento Compatto 5 stelle Brutte figure Uniti Perché Questo per Italia È un momento In cui siamo di fondo Un bivio Ah ecco Oh Bivio Non guardi Non guardi su Wikipedia Dica a lei Di suo Strada con due Molli Molli Ma non stia a guardare Da una parte c'è il coraggio E dall'altra c'è la paura Eh E questo è il momento Di avere un coraggio Dal leone Dal leone Perché l'Italia In questo momento Si trova di fronte Sì No A una pagina di Cosa fa no? Disambiguazione Cosa? Ma cosa sta di Ma guardi Non deve Non lo faccia Perché Fa brutta figura Glielo dico Lasci stare Prima di tutto Non Posi sto telefono Non guardi Prima di tutto Perché da una parte C'è il leone animale Sì Dall'altra C'è il leone segno zodicale Dall'altra c'è il leone Giovanni Presidente della Repubblica Sì Perché quando Su Wikipedia Dall'altra c'è il leone Sergio Regista Come vedete stanno provando A fermarci in tutti i modi Ma sì ma lei si sta fermando Con la stampa di regime Che cerca di depistarci Dando più significati Al termine leone Ma non è la stampa di regime Lei che Ma nel momento Cinque stelle Nel momento Cinque leoni Prima di tutto A differenza degli altri Primi di tutti Che ci hanno preceduto Continuiamo ad andare avanti Con più forza Con più forza Perfetto Ma andare avanti con chi Che molti vostri deputati Votano contro il decreto sicurezza Poi Salvini vuole la TAV Mentre voi invece Non la vuole Allora prima di tutto Sì Prima di tutto Il dissidente del movimento Cinque TAV Non li espulgeremo Li espulleremo Ma cosa sta di Non legga Non legga Li cacciamo via Eccolo Dica di suo Va bene Però senta La compattezza È messa a rischio Dai dati Istat Che dicono Che il Pildo Dopo tre anni di crescita Ora è fermo Allora prima di tutto Noi l'abbiamo scritto Chiaro e tondo Sul contratto Il governo compatto Sì basta Questo compatto Un compatto Governo Governo compatto Che il PIL Dopo tre anni Che si muove Ha diritto a un po' Di meritato riposo Ma ma questa è una fesseria Non si può dire Soprattutto questo povero PIL Deve restare chiuso la domenica No quella è un'altra roba Perché noi del movimento Cinque anni Ma anche noi del movimento Cinque PIL Ma anche noi del movimento Cinque domeniche Nonostante tutti stiano ricercando Di riformarci In ogni modo Istat Ma non si può togliere il finanziario Che noi si confronti Siamo portati avanti Una campagna diffamatoria Ma non sono giornalisti Chi legge l'Istat Indirettamente finanzia il PD E noi questa gente La espulgeremo Di nuovo La espulgeremo Gli diciamo Via via Ciò circolare Non c'è niente da vedere Ecco bravo Semplice e facile Bravo No senta Scusi Edi Maio Invece A proposito A proposito del provvedimento Per incentivare la natalità L'idea di dare un terreno Che ha un terzo figlio È stata molto criticata Prima di tutto Vuoi che si sappia Che con questo provvedimento Sì Prima di tutto Non avremo alcuna Torneranza Verso i furbetti Sì Che faranno direttamente Il terzo figlio Assaltando gli altri due Ma come si fa? Ma lei è matto Non si possono dire queste cose Veramente è serio Come argomento Nel nostro provvedimento Sul terzo figlio Sì Riceveranno Sì La spieghi questa Perché in effetti è Spieghi bene il meccanismo Allora Nel nostro provvedimento Sul terzo figlio Riceveranno i terreni Cittadini I quali Sono residenti In Italia Più di dieci anni Che hanno il colore Della pelle Che va dal Bianco panna Cosa sta dicendo? Al crema Tipo 13 Trattino 1006 Della scala Pantone Ma come fai? Ma guardi E che ci impegneranno Ad allevare Sui terreni Testugini Tartarughe Leoni E movimenti Cinque tuttuni Ma non le si Tuttuni? In auto A piedi Trasporti pubblici Pricicchietta Voli A via Cosa? Cosa fa? No niente Per sbaglio Stavo leggendo Da Google Maps Andrea Zavone